Sono Antonio Romano e responsabile di Primotaglio.it. Primotaglio è la piattaforma dove è possibile acquistare oltre 400 prodotti alimentari, dalla frutta, la verdura, i latticini e le torte. La caratteristica distintiva di Primotaglio è la possibilità di realizzare il freschissimo on-demand. Il primo giorno raccogliamo gli ordini, il secondo giorno produciamo su richiesta i freschissimi che sono stati ordinati e il terzo giorno li consegniamo direttamente a domicilio. Attualmente come servizio di consegna siamo presenti su Milano, Monza-Varese e da pochissimo anche su Torino. Sostanzialmente li consegniamo a domicilio con delle persone che abbiamo formato, selezionato e formato che abbiamo battezzato messaggeri del gusto. I messaggeri del gusto, oltre a consegnare la box, danno dei suggerimenti su come conservare i prodotti, come consumare. Grazie a tutti!